Siamo qui con Giorgio Terziani, che è in Italia colui che rappresenta due grandi realtà nell'ambito del benessere e della salute. Una è S-Drive, cioè fondamentalmente la tecnologia Cell Wellbeing, che è un dispositivo, praticamente possiamo definirlo, di manpattura epigenetica, che è in grado tramite il bulbo del cappello di dare veramente tantissime indicazioni sulla situazione della persona, e quindi poter intervenire in maniera personalizzata, e poi appunto è colui che porta avanti ormai da anni e anni il discorso di Cell Food, un particolare integratore con delle caratteristiche di biodisponibilità uniche, che in effetti lo rende anche l'integratore, probabilmente con la maggior letteratura scientifica al mondo, e quindi incontestabile dal punto di vista delle critiche che a volte vengono poste nei confronti degli integratori, quando si dice, ah ma non c'è letteratura scientifica, non c'è, per cui se ci fosse sarebbero dei farmaci, ha avuto questa uscita recentemente Garattini, non è stata felice, ma come? Se una cosa funziona allora lo dobbiamo far diventare farmaco per forza? Perché non mi sembra un ragionamento corretto, allora se funziona mangiare bene, lo facciamo diventare un farmaco? Funziona l'attività fisica, lo facciamo diventare un farmaco? Siamo qui perché praticamente veniamo da due giorni di un convegno, il primo sabato dedicato soprattutto a S-Drive, direi un convegno internazionale con partecipazione di medici un po' da tutto il mondo, addirittura dall'Asia, dalla Germania, dall'America, domenica il secondo giorno dedicato appunto soprattutto a tutto quello che è il corollario intorno alla medicina integrata che comprende sia S-Drive che Cell Food, ok? Quindi c'è stata una partecipazione numerica impressionante, cioè oggi nella sala ci sono stati 350 persone, credo, era proprio una cosa incredibile e quindi volevo a questo punto chiedere a te e a cosa pensi sia dovuto questo successo strepitoso direi di questa iniziativa? Massimo, guarda innanzitutto ringrazio per questa tua premessa, è quello che insomma da sempre, tu sei un esempio con la medicina funzionale, con quello che tu fai scrivendo i tuoi libri, quindi quei messaggi che tu dai io ho cercato in questi anni di raccogliere persone, professionisti come te che guidano con l'esempio la possibilità di mettere insieme quei puntini come dicevamo sia ieri che oggi che possano contribuire a formare, a informare, a creare cultura attraverso di voi, verso i vostri colleghi, verso i medici, i professionisti. Questo l'ho fatto con passione, amore, entusiasmo, perseveranza. Il segreto di quello che mi dicono ma come fai? Io penso che nella vita valga una parola, la coerenza. La coerenza è l'esempio, vivi con l'esempio e se noi racchiudiamo questi fattori indispensabili noi possiamo veramente creare quella alchimia, quella magia che poi ti porta al successo di questi due giorni straordinari sull'epigenetica, sull'ossigenazione, sul danno mitocondriale, sulla scuola di alta formazione che abbiamo lanciato ma anche perché nulla accade se prima non si sogna e tutto è nato dal sogno, dal niente. Queste cose io pensavo, le sognavo e raccontavo alle persone, un giorno farò questo, un giorno ci sarà. Mi prendevano per matto perché come sapete quando le persone vanno controcorrente, vanno dall'altra parte del gregge sono sempre attaccate, denigrate e anche perché sicuramente dovremmo parlare sempre di cose meravigliose ma c'è purtroppo un'invidia sociale e non si capisce il perché che a volte non capisci se quelli che pensano di darti una mano poi ti remano contro e quindi si va un po' in confusione. Quello che contano sono i risultati, avere 300 persone ieri, cioè sabato, e 300 persone domenica a questi due eventi straordinari con relatori straordinari perché senza i relatori come te Massimo naturalmente e come tutti gli altri tuoi colleghi non avrei potuto fare queste cose e quindi io ringrazio per la fiducia e vuol dire che qualcosa di interessante, quella piccola goccia che può fare la differenza in questo mare lo stiamo facendo perché? Perché abbiamo creato squadra, un team, la possibilità veramente di aiutare le persone a vivere meglio e quindi ti ringrazio. Io però prima di chiudere volevo solo un'altra, potrei dare un'altra cosa che il convegno di oggi era dedicato alla memoria di Sergio Stagnaro e quindi io vorrei che tu dicessi due parole a memoria di Sergio che era un tuo grande amico ma ho avuto il privilegio di avere anch'io la sua amicizia. Considero Sergio Stagnaro un dono meraviglioso che ho avuto nella mia vita una delle persone straordinarie, io lo consideravo il mio secondo papà pensate che poi dedicò un segno proprio a mio papà, segno di terziani lui penso che sia stato e ancora oggi è il più grande clinico che un essere umano che non abbia mai potuto avere la possibilità di conoscere, di apprezzare per l'amore verso i suoi pazienti, per l'amore verso la medicina, per la sua perseveranza nonostante tutto e tutti gli andassero contro le sue teorie, i suoi messaggi di speranza per l'umanità. Ecco Sergio Stagnaro era ed è ancora oggi per l'eredità che ci ha lasciato in questo congresso una speranza per l'umanità, per eliminare i reali rischi congeniti, eliminare le costituzioni della nascita, per fare vera prevenzione per primaria lavorando sulla salute dei padri e delle madri prima del concepimento. Quindi un'eredità, il suo sogno è diventato il nostro sogno ed è questo che abbiamo vogliuto dedicare insieme a sua moglie Marina e a Mario Siniscalchi e Simone Carme, questo evento straordinario che penso che rimanga nella storia della medicina. E nel nostro piccolo, ma non come lui senz'altro, dovrebbe essere un impegno a cercare di portare avanti quello che lui ha fatto, anche se so che è impossibile, perché lui è irripetibile. È una responsabilità, l'accogliamo e sicuramente penso che persisteremo nel portarlo avanti perché io lo dobbiamo e quindi grazie a Sergio Stagnaro per quello che hai detto. Grazie a te Giorgio, grazie a te Massimo, grazie a te Massimo, grazie di cuore.